amici sono da pogliani se sono giovanni una vera cattedrale dedicata alle due ruote tanti marchi ma oggi ci concentriamo sulle moto usate sono tantissime moto e scooter partiamo subito da questa cavallina una priglia una tuareg 6 e 60 abs una moto con vediamo quanti chilometri molto pochi 5.800 chilometri a 9.200 euro qui abbiamo invece una suzuki gs x s 1000 gt una moto con 20.000 chilometri all'attivo colore blu vedete già dotata di borse e di tutto quello che serve per farle fare dei gran viaggi molto bello colore ma anche molto bella la moto proposta 12 mila euro qui andiamo invece su una onda altra moto per dei grandi viaggi super comodi è un vfr 1200 dct abs una moto dell'ottobre 2015 con 26 mila chilometri all'attivo per cui assolutamente un chilometraggio contenuto 8 mila euro il prezzo avete visto la tris di tra borse laterali e bauletto posteriore qui abbiamo una moto stupenda dal look intramontabile è una bmw è un r12 gs è una moto che ha tanti chilometri all'attivo ma garanzia chiaramente valida in tutta europa per cui nessuna sorpresa possibile il look è quella delle grandi bmw protagoniste della parigi dacare dei rally ride 8 mila euro il prezzo per questa meraviglia come del resto è una meraviglia questa ducati a un multistrada 1.2 enduro con una grafica molto particolare che ci riporta anche lei al ai fasti di un altro brand con il marchio lucky explorer qui abbiamo una moto con 27 mila chilometri all'attivo e il prezzo di 12.300 euro molto bella molto particolare veramente qui andiamo invece su una brand di quelli rappresentati dal gruppo pogliani un triumph un tiger 800 xrx abs una moto del maggio 2018 moto con 34 mila chilometri all'attivo le borse le vedete sicuramente un una bella moto 7 mila e 500 euro rimaniamo in casa triumph con un tiger 850 sport del 2021 moto anche lei con pochi chilometri 22 mila chilometri 8 mila 890 euro qui andiamo su un brand iconico parliamo di harley davidson parliamo della diciamo enduro del crossover di casa harley una pan america s 1250 del 2021 con soli 3000 chilometri percorsi una colorazione verde militare molto molto bella 16 mila e 700 euro il prezzo qui andiamo su una kabasaki invece versus millese tourer plus abs della dicembre 2019 e fine 2019 30 mila chilometri all'attivo 11 mila cento euro con le borse laterali a predisposizione per c'è già la piastra per il bauletto posteriore andiamo in in un altro dei brand rappresentati con grande banto da pogliani parliamo di moto guzzi questa la via 85 tt abs del 2021 moto con 11 mila chilometri borse laterali e tanti altri optional come paramotore vedo un paracoppa sotto è sicuramente una moto molto ben strutturata 11 mila chilometri ve l'ho detto 9.900 euro ce n'è un'altra stesso colore con non ci sono le borse ma ci sono altri optional anche 11 mila chilometri è sempre un mio 85 tt se questo è un febbraio del 2020 9.200 euro andiamo in casa yamaka con una tracer 9 gt del settembre 2023 per cui moto veramente freschissima super completa vedete che c'è un tris di borse borse laterali e bauletto posteriore una sella che mi sembra di capire non di serie ma molto comoda solo al alla vista vedete che ci sono i paramani ci sono i faretti c'è il ci sono chiaramente i paramotori insomma super super completa 2600 km per cui praticamente una moto nuova è un 900 14.490 euro kawasaki versus grand tour 1000 abs altra moto per fare veramente il giro del mondo senza stancarsi è una moto del 2018 con 47 mila chilometri garanzia chiaramente valida in tutta europa per 12 mesi 8.900 euro abbiamo le ktm con iniziamo con questa 1290 super adventure r del 2018 è una moto che ha 42 mila chilometri gli optional vedete che ci sono già le predisposizioni per le borse laterali e il bauletto paramani insomma tutto quello che che di solito deve avere una una tourer di questo calibro 12.400 euro altra ktm 1090 super duke gt abs e questa è super divertente anche l'altra stesso motore ma la ne che questa qui è veramente un uno spasso da guidare a 23 mila chilometri all'attivo è una gt abs 11.500 euro qui andiamo su una ktm un po più piccolina ma non per questo meno divertente un duke 790 abs moto del luglio 2020 con 13 mila chilometri per cui veramente fresca 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 7.500 euro questa è un'altra moto super furba è una vstrom una suzuki è una moto che mi piace di più adesso di quando è uscita e ne abbiamo due esemplari parto da questa questa un 650 xt abs del 2 viene del ottobre 22 a soli 2800 chilometri all'attivo per cui veramente nuova e viene proposta a 7.300 euro con un sacco di option anche poi se vedete quali vedete tutti questo invece è un 650 abs anche lei se è mezzo è una moto del settembre 2021 con 8.900 chilometri anche lei veramente molto molto fresca a qualche optional di carattere estetico che vedete inquadrato adesso la pasquale viene proposta a 7.900 euro una kawasaki per spendere poco ma avere tanto questa versus è una moto assolutamente ben riuscita che ha messo su due ruote tantissima gente permettendo di essere utilizzata sia nel traffico quotidiano per andare al lavoro sia per fare qualche viaggio in questo caso la moto è del 2007 a soli 14 mila chilometri per cui è veramente super nuova poco poco sfruttata poco usata ha un bel set di borse laterali in tessuto e il bavolotto posteriore per eventualmente alloggiare il casco e le altre cose che servono è una moto molto bella tenuta anche molto bene 3.800 euro ragazzi costa meno veramente di uno scooter diciamo sempre così ma questa fa veramente un gran lavoro ancora moto guzzi ancora b7 3 stone del giugno 2019 con 11.000 chilometri bello questo colore opaco c'è già il portavauletto ci sono altri optional 6.500 euro portapacchi non mi veniva prima ho detto portavauletto non mi veniva portapacchi vi chiedo scusa anche questa portapacchi anche questa è una b7 3 stone a settembre 21 9.100 chilometri questo è un nero opaco anche lei ha il portavauletto pasca l'hai visto che ha il portavauletto portapacchi 7.900 euro ancora in casa moto guzzi con un'altra stone del febbraio 22 con 14.000 chilometri anche lei in colore opaco satinato molto bello questo azzurro lei non al portavauletto però ce lo si può mettere ok il portapacchi si può mettere 7.900 euro andiamo sul ancora torniamo sulle triumph però settore strada con questa naked una street triple r abs del 2013 con 40.000 chilometri 41.000 per l'esattezza in realtà si dice street triple però va bene ho detto triple come dicono tutti ma è triple ed è 8.000 euro il prezzo ancora triumph street scrambler 900 è un model year 2017 ed è un maggio 2017 tenetevi forte perché ha fatto veramente tanti chilometri ne ha fatti 3.500 cioè del 2017 3.500 chilometri per cui è stata presa usata tre volte per andare a bere il caffè poi è stata guardata eliminata in qualche salotto il prezzo è 7.390 euro bello il colore anche la borsa in cuoio solo lei costa un bel botto nuova per cui è un bel accessorio che vi risparmiate qui abbiamo ancora una street scrambler 900 abs del 2019 anche lei tantissimi chilometri ragazzi tantissimi 8.900 chilometri e 7.490 euro è il prezzo ancora street scrambler agosto del 2021 anche lei per chilometrata proprio troppo tanti chilometri che poverina non sa più come fare ha fatto 6.000 chilometri 6.000 chilometri sono praticamente tutte e tre nuove vi portate a casa delle delle triumph street scrambler praticamente con pochissimi chilometri come se fossero nuove risparmiando un sacco di soldi questa viene 8.990 euro vi ricordo del 2021 ma costa di 6.200 chilometri qui abbiamo una trident 6.60 per cui l'ultima generazione di casa triumph è un agosto 22 con 2.600 chilometri 2.600 chilometri qualche optional come il parabrezzino 7.400 euro qui una delle mie moto preferite di sempre questa è una kawasaki è una v 800 è una moto del 2011 con 27.000 chilometri all'attivo è una moto euro 3 per cui è ancora circolabile anche in milano senza problemi e costa 5.600 euro iper classica iper iper bella andiamo invece sulla sezione dedicata ai tre ruote perché sicuramente la stagione adatta questo è un mp3 del 2019 con 10.000 chilometri all'attivo la cilindrata questo è il tre e mezzo per cui sicuramente un mezzo veloce agile ma con l'avvantaggio della doppia ruota anteriore e viene 7.200 euro questo vi prego di fare attenzione perché è un prezzo sicuramente interessantissimo per entrare in questo mondo che comunque un mondo quello dei tre ruote un po più caro delle due ruote giustamente c'è più c'è più tecnologia ci sono più più parti meccaniche insomma costano di più questo in realtà è un urban un 300 urban è un mezzo che tra l'altro ho avuto si muove veramente bene è un marzo 2017 a qualche chilometro a 50.000 chilometri perché chi ha questi mezzi li usano al vantaggio poterli usare veramente tutto l'anno però chiaramente garanzia 12 mesi valida in tutta europa per cui è un piaggio la garanzia di un marchio che non dobbiamo presentarvi noi e viene 3.800 euro qui secondo me c'è da fare veramente un bel affare questo penso sia stato venduto perché il cartellino è stato tolto vi faccio vedere questa royal anfield che è sempre bellissima è un gran classico questa una metro 350 abs stellar dell'aprile 22 con su di 5.000 chilometri all'attivo e costa 3.800 euro molto carina anche la borsa laterale rigida in stile british anni 50 molto molto bello altra royal questa un himalayan 410 abs moto straordinaria nella sua semplicità una moto che mi riporta da quando è stata presentata all'immagine del gs bmw prima serie per cui parlo degli anni forse cos'era anni 80 sicuramente 4.400 euro soli 5.800 chilometri con il tris di borse enormi però sicuramente molto molto comune qui abbiamo un endurino vediamo di cosa si tratta un durino mica tanto perché questo qua è un tm 302 tempi che figata pazzesca e pensavo su un cinquantino ma è molto compatto ma un 302 tempi di maggio 2020 ha percorso 2.200 chilometri viene anche segnalato 65 ore di utilizzo ed è scusate qui trattativa riservata se vi interessa ragazzi chiamate chiamate gloria e gli altri addetti al reparto vendite perché è sicuramente interessante qui abbiamo uno squarna vitpilen 400 abs del maggio 2021 con 10.000 chilometri 4.200 euro una mescina dico mescina perché è una motoretta carina con un look tutto suo per quei ragazzi che hanno voglia di distinguersi dal resto è una cafferese 125 del 2017 1700 chilometri veramente nuova 2300 euro la c'è un'altra mesh devo avvicinarmi al cartellino pascal ti chiedo scusa un pallo è un questo un cinquantino dirt track 50 con 8.000 chilometri e viene 2.000 euro te la faccio inquadrare bene perché è molto particolare molto bella anche lì un ragazzino che ha voglia di distinguersi andiamo sugli scooter kinko 125 people s 125 è uno scooter con 36.000 chilometri all'attivo della giugno 2018 2.000 euro per spendere poco e comunque muoversi con la ruota alta con tutti i vantaggi di quel tipo di scooter di questo non sh 150 per cui uno dei best seller del mercato azzurro parabrezza e baulotto posteriore è un mezzo del 2005 con 45.000 chilometri però trattasi di onda sh per cui problemi zero 1800 euro il prezzo vi faccio vedere anche questo new evidentemente mezzo elettrico 5.400 chilometri 2.900 euro non mi dico molto che non conosco il prodotto qui ancora un kinko people one 150 bs del 2019 con 13.000 chilometri 2.600 euro anche lui parabrezzato bello il colore la sella rossa il baulotto posteriore figo ci sta di brutto vespa primavera 150 uno dei best seller questo non voglio dire un investimento però difficile perdere i soldi su un mezzo così quando si chiama vespa vale sempre soldi 1.400 chilometri percorsi 4800 euro con questo portapacchino che davanti non ho detto portavoletto avete notato che ho detto il nome giusto portapacchino davanti che da solo costa un botto il parabrezzino che da solo costa un botto portapacchi posteriore la sella marrone ci sta 4800 euro questo mezzo nuovo è una k l brera 300 abs x è un mezzo del febbraio 23 con 4800 chilometri all'attivo 3.900 euro altro k l motorcycle ombre era sempre x 300 abs del novembre 22 per cui fine 22 2800 chilometri 4.200 euro andiamo sulla zona dei beverly questo un 350 sport tour per cui un vero panzer un motorone incredibile anche per delle medie in autostrada interessanti un mezzo con 25 mila chilometri l'attivo 2600 euro questo ed è del 2012 qualche anno però pochi chilometri questo è sicuramente più recente è un luglio 2020 ed è un 300 abs asr con 15 mila chilometri 3.700 euro c'è già la piastra per il baoletto e questo parabrezzino fiume molto molto carino qui ne abbiamo un altro della 2019 sempre un 300 abs con 30 mila chilometri colore nero parabrezzino ok così la dotazione 3.400 euro tutti i mezzi garantiti ovviamente kinko agility 300 nudge nudo nudo e nudo e nudo e ragazzi è un agility 300 va bene così del ottobre 21 27 mila chilometri 3.300 euro anche questo già dotato il parabrezzino e eccetera kinko exciting s abs del gennaio 21 13 mila chilometri percorsi per cui poca strada molto bello colore opaco satinato blu 5 mila euro il prezzo ancora un kinko questa è la versione un po più bombardona e l'excite in 400 abs con un febbraio 2015 con 17 mila chilometri per cui ha veramente poca strada all'attivo 3.900 euro questo è bel mezzo gran prezzo altro incrociatore che ho avuto è il burman 650 executive abs è veramente una la moto uno scudo più comodi che che ho provato e poi viaggia veramente come come se sul velluto è un marzo 2015 35 mila chilometri all'attivo 5.200 euro ha già il baolotto è super protetto è veramente un mezzo da da provare qui abbiamo invece il leader nel segmento degli scooter parliamo del t max il riferimento per tutti è un 560 abs del giugno 22 con 10 mila chilometri percorsi 11 mila 800 euro il prezzo torniamo invece su qualche moto che sono delle naked molto interessanti e non solo questa è una hornet del 2011 con 36 mila chilometri per cui strada non ne ha fatta assolutamente tanta molto bello uno scarico aftermarket 4.900 euro poca spesa tanta resa come diciamo sempre qui abbiamo invece un hornet di ultima generazione cv 750 abs ottobre 23 con soli 209 chilometri evidentemente è una moto che non ha praticamente percorso strada 7.290 andiamo su un'altra moto di casa onda un cv 500 s abs molto carina anche lei come look è una moto con 21.000 chilometri del marzo 2017 e soli 4.300 euro altra moto per entrare per ritornare su due ruote qui non vediamo il prezzo che è stata venduta appena arrivata e andrà apprezzata la trovate poi comunque sul sito una ducati street fighter del 2012 con 9.400 chilometri 6.900 euro anche qui un bel prezzo per una moto straordinaria ancora kawasaki z 900 abs del giugno 2018 con 19.000 chilometri a 6.900 euro questa è una xs r di casa yamaha che è un 700 è una moto del maggio 2018 anche lei può venire stata dimenticata in garage no ha fatto poca strada 2.600 chilometri all'attivo per cui moto praticamente nuova 6.400 euro mv vediamo questa mv e quel monsterino che c'è lì dietro questa mv è come sempre una cartolina come tutte le mv è una brutale r 9 90 del gennaio 2009 è una moto che però non invecchia come vedete è un capolavoro stilistico bella da usare ma anche da guardare a soli 12 mila chilometri all'attivo e costa 6.900 euro andiamo a vedere questo monsterino bianco vado a leggere la scheda così vi riporto i dati è un 696 plus del 2008 luglio 2008 37 mila chilometri all'attivo 4.600 euro gli option bene o male li vedete voi dalle immagini scarico specchiettini a manubrio e via dicendo andiamo a vedere questo gs che è sempre uno dei mezzi più ricercati sul mercato dell'usato è un 1200 chiaramente del settembre 2016 con 19 mila chilometri ragazzi ha fatto pochissima strada tris di valigie evidentemente non ha fatto i rally ride né le gite nel deserto il suo vecchio proprietario viene proposta a 13 mila 800 euro colore comunque impeccabile anche il parasserbatoio in cuoio per cui è stata molto ben protetta qui andiamo su una benelli leoncino 500 del 2022 con 20 mila chilometri all'attivo 4800 euro ancora triumph ancora tiger 900 gt pro del settembre 21 con 19 mila chilometri all'attivo 11 mila 990 euro se non ricordo male gt pro ha delle particolarità anche sulle soluzioni andate a vedervi la la scheda sul sul sito di pogliani tiger 800 abs giugno 2014 con 37 mila chilometri 6 mila e 300 euro qui abbiamo delle moto un po più particolari partiamo da questa moto guzzi california 1.4 dell'agosto 2016 una moto che si è vista poco in giro ma sicuramente delle dimensioni delle particolarità che la rendono unica 15 mila chilometri ve l'ho detto e viene proposta a 12 mila 900 euro abbiamo invece un altro mezzo di casa guzzi per spendere poco però anche lei intramontabile una nevada una custom italiana però la differenza secondo me c'è tra le guzzi e le altre marche che fanno custom è che le guzzi hanno una guidabilità che le altre difficilmente hanno questa è una moto per spendere poco perché parliamo di 3.800 euro però ci sono le borse c'è lo schienalino posteriore c'è il parabrezza è una 750 classic del 2010 per cui a qualche anno ma ha percorso 4.000 chilometri all'anno va a 40.000 chilometri per cui è stata usata poco ed evidentemente molto bene 3.800 euro per entrare nel mondo delle moto custom bene queste sono le offerte in questo momento però il sito è sempre aggiornato da gloria a tutto lo staff di vendita fate un salto qui vi ricordo che quello che vi ricorda vi dice sempre gloria è che se avete bisogno di vendere vostro usato potete portarlo qui da pogliani stabilite con i funzionari il prezzo che volete realizzare e poi tutte le pratiche vengono seguite direttamente dallo staff di pogliani e invece per l'usato consultate anche il sito pugliani.it oppure fate un salto qui che è sempre più bello vedere dal vivo magari una moto a cui non stavate pensando che grazie al video vi salta in mente ma perché non vado a vedere quella moto lì fate come vi consiglio sempre di solito non vi deludo mai da pogliani è tutto ciao dal bomb ragazzi grazie